Uno dei progetti che sicuramente ci ha dato una soddisfazione in questi mesi ma anche l'anno scorso è Futura Costo Zero, che cos'è? Un progetto per i giovani che parte dai 16-17 anni, per cui dall'età lavorativa, fino ai 25-26 anni, noi paghiamo come provincia i primi 6 mesi all'interno dell'azienda, gli aspetti assicurativi e contributivi per il giovane, l'imprenditore per cui non ha dei costi, sono tipo corsi formativi in azienda stessa, se poi l'imprenditore trova la sintonia e il valore in questo giovane viene assunto, noi diamo anche un riconoscimento economico all'imprenditore, su questo progetto l'anno scorso siamo riusciti a fare oltre 4860 assunzioni, credo che sia un dato estremamente positivo, che ha dato delle soddisfazioni sul progetto dal quale abbiamo messo poche migliaia, centinaia di migliaia di euro, ma che ha dato la possibilità a Tattisone di trovare una occupazione e una certezza di lavoro.